E siamo qui dalla sede di Limitarte con qualche personaggio ambiguo, con gli occhiali, siamo in diretta, ecco qui, adesso voi finirete in automatico su Facebook, finirete in automatico su Youtube, capirai da finire su qui, Giacomo, lei che è di gubbio, lei che è di gubbio, va bene, un saluto, ciao.